A Caltagirone un pedone è stato investito da un'utilitaria al Viale Europa in prossimità dell'intersezione con Piazza Falcone e Borsellino. Il sinistro che si è registrato poco dopo le 17 di oggi è coinvolto il conducente di una Citroen che ha investito, apparentemente in maniera lieve, una donna di 38 anni la quale è rimasta a terra ma aiutata dalle persone che si trovavano nelle vicinanze sino all'arrivo dei soccorritori, ovvero dei sanitari del 118 che dopo averla immobilizzata l'hanno trasferita all'ospedale Gravina per le cure del caso. Il pedone era cosciente ma incomprensibile stato di preoccupazione. Sul luogo dell'incidente sono da prima giunte due volanti del locale commissariato di pubblica sicurezza i cui agenti si sono occupati della viabilità debiando il traffico. I rilevi del sinistro li hanno però compiuti gli agenti della Polizia Municipale. Il pedone è stato quindi affidato alle cure dei sanitari del Gravina che effettueranno tutti gli esami clinici del caso. Le sue condizioni non dovrebbero ad ogni modo destare particolari preoccupazioni.